Il libro di Lecce e di Mariella Di Monte, Sentimenti caldi, passioni forti, e il mistero di questo romanzo, si svolge proprio all'interno di questo mondo di passioni e di sentimenti forti. L'amore fa sì che due persone innamorate si capiscono l'un l'altro in profondità. Quello che una persona normale non vedrebbe l'innamorato lo vede, l'amore guarisce. Ma c'è uno che invece pensa in modo diverso, e lui trova la strada. Non sarà la passione, non sarà l'amore, è un altro meccanismo che lui svela e ne fa un bellissimo giallo. Grazie per la visione!